Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo ciclo di lezioni sull'Europa feudale. Queste lezioni sono pensate come un proseguimento del programma di storia, visto che siamo arrivati al punto in cui Carlo Magno ha preso il potere in Francia e ha fondato il suo sistema innovativo di gestione del potere, che si chiama feudalesimo. Vediamo quindi in questo ciclo di lezioni come il feudalesimo si sviluppa in Europa. Allora, il programma delle lezioni sarà questo. Questa prima lezione tratta dell'anarchia feudale e delle nuove invasioni, per passare poi alla rinascita dell'impero nella zona germanica. Nella terza lezione affronteremo lo scontro tra chiesa e impero, conosciuto anche come lotta per le investiture, e nella quarta lezione ci dedicheremo a un approfondimento sul feudalesimo come sistema di gestione della società e del potere e sul castello, quindi col fenomeno dell'incastellamento e vedremo insomma le caratteristiche del tipico castello medievale. Ogni lezione ha un video dedicato, quindi in questo primo video ci occupiamo appunto dell'anarchia feudale e delle nuove invasioni che interessano l'Europa. Allora, le lotte per il potere dopo Carlo Magno. Dove siamo rimasti? Siamo rimasti a Carlo Magno che appunto nell'Ottocento è stato incoronato dal Papa a Roma in una cerimonia molto sacra, in una cerimonia che ha dato il via, ha creato di fatto il sacro romano impero e Carlo Magno voleva dividere l'impero fra i suoi tre figli. Due dei suoi due figli però morirono e quindi l'impero passò nelle mani del figlio Ludovico il Pio alla sua morte nell'814 d.C. Ludovico il Pio governa fino all'840, anno in cui avviene la sua morte e come per la successione di Carlo Magno anche in questo caso si scatenano una serie di lotte per il potere, per la successione. Queste lotte interessano i tre successori di Ludovico il Pio che sono Lothario, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo. Vi ho messo questa slide che vi riassume tutto il passaggio, quindi da Carlo Magno passiamo a Ludovico il Pio nell'814 e ai suoi successori. Cosa succede dopo la morte di Ludovico il Pio? I due fratelli minori dei tre che abbiamo visto prima strinsero un'alleanza contro Lothario e alla fine del conflitto firmarono un trattato fondamentale per la storia medievale che è il Trattato di Verdun. Il Trattato di Verdun risale all'843 d.C., quindi al IX secolo e cosa stabilisce? Stabilisce una chiara divisione geografica del Sacro Romano Impero affidata in alcune parti, in tre parti. Queste parti vengono affidate quindi ai tre successori di Ludovico il Pio. Lothario ebbe il titolo imperiale e la fascia centrale dell'impero, quella che vedete in verde, quindi è anche sicuramente la fascia dell'impero più estesa e comprende nei suoi domini lo stato della chiesa che come abbiamo visto è nata sotto i Franchi, sotto Carlo Magno. Poi abbiamo Carlo il Calvo che ebbe la parte occidentale dell'impero, quello che vedete in blu, che corrisponde più o meno a grandi linee all'attuale Francia. e poi abbiamo il regno di Ludovico il Germanico che ebbe la parte orientale, quindi quella in arancione nella cartina. Tutto questo, quindi lo smembramento del potere e dell'impero in tre parti, chiaramente portò a una grande fase di instabilità. Quindi quello che era il sogno universale di Carlo Magno, che appunto aveva creato un sacro romano impero sul modello di quello dell'impero romano, va incontro a un disfacimento e quindi il sogno universalistico di Carlo Magno finisce con la divisione dell'impero nei suoi discendenti. Qua vediamo nel dettaglio questa divisione, le caratteristiche dei tre regni che abbiamo visto. Quindi il regno occidentale, quello di Carlo il Calvo, che vedete nell'immagine, vi ho detto che corrispondeva all'odierna Francia, come vi ho fatto vedere in questo schema. E questo regno era omogeneo per popolazione, cultura e lingua, quindi la popolazione aveva più o meno tutta la stessa etnia. La cultura era simile e la lingua anche. Infatti, cosa molto importante, nell'impero si parlava il volgare francese. Nella slide successiva vi spiegherò un po' meglio cosa significa volgare francese. Quindi sicuramente il regno di Carlo il Calvo è quello più unito dal punto di vista politico, culturale e della società. Poi abbiamo il regno orientale, di ludico il germanico, che corrisponde più o meno alle attuali Austria, Germania e parte della Svizzera e anche qui c'è una discreta unità culturale e della società e la lingua che si parla è la lingua germanica. Il terzo regno, invece, quello di Lotario, è, diciamo, il regno più... che anche il regno col titolo imperiale è quello più disorganizzato, quindi è quello senza unità linguistica, ci sono molte lingue diverse parlate in questo regno e anche diversità etnica, quindi le persone hanno un'origine etnica di razza composita, molto diversa. E infatti è il regno che per primo entrerà in crisi per questa assenza di unità, ok? Queste sono un po' le tre caratteristiche dei regni che vengono fuori dalla divisione, dal Trattato di Verdanne. Ecco, un piccolo approfondimento. Vi ho detto che nel regno di Carlo il Calvo, quindi, scusate, nel regno di Carlo il Calvo, quello che corrispondeva all'attuale Francia si parla al volgare francese. Cosa vuol dire volgare francese? Volgare non vuol dire che sono parole sconvenienti, parolacce, o il significato che voi potete dare a questa parola, ma volgare viene dal latino vulgus, cioè popolo, e il termine indica una lingua popolare che lentamente, nel corso dei secoli, ha sostituito il latino. Da cui, però, deriva. Quindi, come vedete nello schema, c'è il latino come lingua madre, che si divideva in latino colto, quindi quello scritto, dei documenti, delle cerimonie ufficiali, e il latino volgare, cioè quello parlato dal popolo, che era una versione, appunto, popolare e di uso quotidiano del latino colto. Da questo latino volgare nascono le lingue neolatine, o romanze, tra cui troviamo l'italiano, il rumeno, il portoghese, il francese, lo spagnolo. Quindi questa cosa è particolarmente importante, perché le lingue volgari si diffonderanno in tutta Europa nel corso del Medioevo, e sono le antenate delle lingue che parliamo noi oggi, come popolazioni europee, in Europa. Quindi anche l'italiano, come il francese, come le altre che vedete qui, derivano da questa versione e versione volgare e quotidiana del latino. Questa cosa molto importante. Ok, cosa succede alla morte di Lotario? Lotario, come abbiamo detto, ha assunto il titolo imperiale, anche in questo caso, come d'abitudine, si scatena una nuova lotta per il potere, e la corona imperiale passa a questo punto a Carlo al Calvo. Ok? Carlo al Calvo è il protagonista di un, potremmo dire, l'avvenimento, una delle leggi più importanti dell'Alto Medioevo, che è il periodo in cui ci stiamo occupando. Vi ricordo che l'Alto Medioevo convenzionalmente va dal 476, che è la caduta dell'impero romano d'Occidente, fino all'anno 1000. Ok? Cosa succede nel regno di Carlo al Calvo? Dobbiamo tornare un attimo indietro, cioè dobbiamo tornare a quello che era il cuore del sistema feudale che abbiamo visto sotto Carlo Magno. Tutti i sovrani carolingi, quindi successori di Carlo Magno e Carlo Magno stesso, avevano concesso terre e privilegi ai feudatari. Vi ricordate chi sono i feudatari? I feudatari sono le persone che sono legate all'imperatore da un legame di fiducia reciproca e che quindi vanno a costituire il sistema vassallatico. Il sistema vassallatico vuol dire che questa persona di fiducia che l'imperatore sceglieva veniva in qualche modo investita del ruolo di amministrazione delle province dell'impero e gli veniva quindi affidato un territorio da gestire. Essendo l'impero molto grosso e molto difficile da gestire, questo è un problema che gli imperatori avevano fino dall'epoca romana, Carlo Magno cerca di risolvere questo problema e lo risolve con il sistema feudale questa cosa qui cioè il fatto di affidare delle terre a delle persone di cui lui si fida che non sono altro che i vassalli o feudatari. Nello schema di fatti vi dico perché l'imperatore concedeva questi privilegi questi privilegi feudatari? Perché? Perché doveva garantirsi la fiducia delle persone a cui dava il territorio da gestire quindi in quanto feudatario tu dovevi essere titolare di privilegio rispetto agli altri perché questo ti teneva legato al tuo imperatore e in questo modo l'imperatore diminuisce in questo modo però il potere dell'imperatore diminuisce perché chiaramente se devo dividere il mio potere di gestione sul territorio con altre persone vuol dire che io ho meno potere perché ne do un po' agli altri e cresce invece quello dei grandi feudatari quindi lentamente il percorso che vedremo è che si passa da un potere centrale che è quello dell'imperatore modello Carlo Magno lungo tutto l'alto medioevo per arrivare poi anche al basso il potere dell'imperatore lentamente viene eroso e pezzi di questo potere vengono dati ai feudatari tanto che questi feudatari a un certo punto arrivano a chiedere che alla loro morte il feudo il feudo non torni al sovrano perché una volta che il feudo ti veniva dato in gestione come feudatario alla tua morte il feudo tornava all'imperatore quindi non era mai veramente tuo quel feudo ma ti era solo dato appunto in gestione potremmo dire incomodato uso a questo punto però visto che i feudatari cominciano a prendere sempre più potere e vogliono essere sempre più autonomi rispetto all'imperatore chiedono che alla loro morte il feudo non torni al sovrano come era prima ma che vada ai figli ai loro figli quindi dall'altra parte diventa fondamentale che i feudatari abbiano dei figli ok tutta questa questa situazione arriva a compimento nell'887 dopo Cristo anno in cui Carlo il Calvo il nuovo imperatore come abbiamo visto cede a queste richieste dei feudatari ed emana una legge ok i capitolari come abbiamo visto sotto Carlo Magno sono leggi che valgono per tutto l'impero questa legge si chiama Capitolare di Cersì ed è appunto una delle leggi fondamentali dell'Alto Medioevo in cui il cosa si stabilisce che il feudo non è più una concessione data al feudatario ma una sua proprietà quindi il feudo diventa di proprietà del feudatario una volta che gli viene affidato dall'imperatore questa legge ha delle enormi conseguenze sulla politica e sulla società medievali perché questo passaggio è un po' complesso quindi ascoltate bene il sistema feudale quello inventato da Carlo Magno come vi ho detto era nato per garantire unità all'impero di Carlo e con il capitolare di Cersì quindi con il passaggio cioè con il fatto che i feudi diventano ereditari in realtà il sistema feudale diventa un motivo di disgregazione di questo impero perché come abbiamo detto dopo il capitolare di Cersì i grandi feudatari divennero proprietari dei loro feudi dei territori che governavano e quindi di fatto divennero dei piccoli sovrani questi feudatari che sono sempre i nostri vassalli cui l'imperatore aveva dato fiducia per aiutarlo nell'amministrazione del suo regno di fatto smembrano dividono il potere imperiale in tanti piccoli regni autonomi ok? e quindi qui facciamo un bel collegamento e capiamo che cos'è effettivamente quella curtis che abbiamo visto nelle elezioni prima di Carlo Magno cioè la curtis quel sistema economico per cui c'erano tanti piccoli stati li abbiamo chiamati tanti piccoli territori autonomi divisi in parse Massaricia parse Dominica andate a rivedervi quella parte dopo il capitolare di Cersì il sistema della curtis diventa effettivamente come un piccolo stato autonomo quindi non ci immaginiamo più un impero unico a cui capo c'è l'imperatore ma un insieme di tanti piccoli staterelli autonomi che sono le curtis con un signore a cui ora appartiene di fatto quella terra quindi quella terra non deve più tornare all'imperatore e quindi questo il capitolare di Cersì porta a quella che gli storici chiamano anarchia feudale quindi il capitolare di Cersì è quello che determina il passaggio dalla curtis ok che era divisa in parse Dominica la residenza del signore e parse Massaricia la residenza dei contadini e degli schiavi prima del capitolare di Cersì il potere è ancora nelle mani dell'imperatore e i feudatari lo servono quindi questa immagine che avevamo visto nelle lezioni precedenti con il capitolare di Cersì lentamente si passa a questa immagine ok quindi la prima cosa che voi vedete senza saperne nulla è la differenza nella maestosità della dimora del signore prima era una dimora anche abbastanza modesta dopo diventa una dimora molto lussuosa che noi conosciamo molto bene questa dimora è il castello quindi a partire dal nono e decimo secolo la curtis questo villaggetto potremmo dire si trasforma e la residenza del signore diventa molto più grande e fortificata quindi nasce quello che noi conosciamo oggi appunto come castello il castello lo vedremo poi bene nella lezione dedicata ai castelli nasce per due motivi il primo motivo è quello che abbiamo detto cioè diventa il simbolo del nuovo potere che i signori hanno ottenuto dopo il capitolare di Cersì e l'altro motivo per cui nasce è perché è esattamente quello che dicevamo cioè è un motivo di protezione ok perché l'Europa in questi secoli tra il 9 e il 10 secolo dopo Cristo viene interessata da una nuova serie di invasioni di popoli di popoli vari che dopo che dopo vedremo e quindi i signori hanno sempre più la necessità di difendere e di proteggere le popolazioni che stanno al di sotto del loro controllo ed è per questo che il castello viene concepito a questa forma in cui le mura che vedete qui hanno un ruolo fondamentale e voi riconoscete un castello da praticamente due elementi le mura e le torrette che stanno sulle mura dove stavano i soldati che dovevano difendere il castello quindi le mura le torri e le strutture di difesa erano un'immagine chiara che il feudatario era da una parte il protettore del suo territorio e dall'altra anche il padrone e quindi non è più l'imperatore che ha questi ruoli come era prima quindi la Curtis è definitivamente un piccolo stato col suo sobrano che è diventato il feudatario e non è più l'imperatore quindi se mi dovessero chiedere cos'è l'anarchia feudale è esattamente questo cioè il fatto che i signori feudali gli ex vassalli assumono potere autonomo diventano i re dei loro piccoli stati che sono che non sono altro che la nostra Curtis ok quindi l'anarchia feudale che è questo abbiamo il fatto che dopo Carlo il Calvo che muore nell'878 Carlo il Grosso il suo successore tenta di riunificare l'impero ma ci riesce per poco quindi chiaramente essendosi reso conto di quanto potere avevano assunto i feudatari Carlo il Grosso tenta di diciamo mettere di trovare una soluzione a questa perdita di potere dell'imperatore e non ci riesce e per i motivi spiegati nella slide precedente avviene quello che abbiamo chiamato anarchia feudale anarchia feudale vi ripeto vuol dire che il potere è estremamente frammentato non è più unico non è più nelle mani del solo imperatore ma è diviso nei vari feudatari in questo schema avete proprio riassunto anarchia feudale estrema debolezza dei successori carolingi nuovi pericoli da popolazione aggressive i signori feudatari diventano sempre più indipendenti fino al capitolare di Cersi che proprio dà l'ammazzata finale al potere imperiale sono spesso in lotta fra loro e in continua dispota con l'autorità centrale e a questo segue quindi il fenomeno dell'incastellamento come simbolo dell'estrema frammentazione del potere in piccoli staterelli ok a che cosa porta quindi questa anarchia feudale intanto i territori francesi di questo ex impero quindi quello che corrispondeva più o meno al regno di Carlo il Calvo ve lo faccio rivedere sulla cartina quindi questo territorio qui parte di questo territorio a seguito dell'anarchia feudale si stacca dal resto del territorio imperiale alla fine del decimo secolo per volontà di un feudatario appunto quindi di un vassallo del re che si chiama Ugo Capeto e che diventa re di Francia quindi a fianco della dinastia dei Carolingi a questo punto troviamo una nuova dinastia di re francesi che si chiama la dinastia dei Capetingi proprio da Ugo Capeto quindi quello che era il sacro romano impero di Carlo Magno dopo l'anarchia feudale si riduce ai soli territori della Germania e dell'Italia parte dell'Italia quindi Italia settentrionale e centrale in Italia inoltre a seguito dell'anarchia feudale i feudatari non solo litigano con l'imperatore e non ne riconoscono l'autorità e non ne riconoscono l'autorità ma anche litigano tra di loro come fanno esattamente i re normalmente negli stati ok altro punto importante i papi furono spesso coinvolti in queste lotte per il potere l'abbiamo visto fin dall'epoca appunto di Carlo Magno il grande coinvolgimento della chiesa nel sistema feudale ok e questa è un'altra conferma di questo fatto cioè i papi vengono spesso coinvolti in queste lotte schierandosi di volta in volta o per imperatori o per i feudatari tutto ciò l'anarchia feudale possiamo riassumerlo con un grande con un'unica grande parola che è instabilità ok che è esattamente il contrario di quello che sognava Carlo Magno a tutto ciò quindi a questa grande instabilità del potere che ho descritto fino adesso si aggiunge il fatto che l'Europa viene interessata da nuove invasioni come vi ho detto e abbiamo sempre visto che le invasioni non sono uno scherzo per per gli stati perché chiaramente portano disequilibrio e cambiamenti nel corso quindi nel IX e X secolo il territorio fu raggiunto da una nuova serie di invasioni che contribuirono a peggiorare la situazione di instabilità che già si era creata indipendentemente da queste invasioni chi sono questi popoli che invadono di nuovo l'Europa molto brevemente non sto a tediarvi sulle caratteristiche di tutti i popoli vi dico che sono essenzialmente tre i più importanti gli Ungari da una parte i Normanni popolazione fondamentale vedremo perché e gli Arabi o Saraceni allora gli Ungari sono popolazioni che occupavano cioè che occuparono presso territori presso il Danubio il Danubio cioè in territori dell'odierna Ungheria e da lì puntarono in direzione delle fertili pianure della Germania della Francia e dell'Italia chiaramente i deboli eserciti dei signori feudali potevano fare ben poco contro queste scorrerie che erano molto violente e soltanto nel 955 dopo Cristo gli Ungari furono sconfitti e rinunciarono alle loro incursioni fuori dalla Pannonia quindi rimangono in quel territorio lì che corrisponde all'odierna Ungheria nell'anno 1000 addirittura il loro re Stefano I si convertì al cristianesimo ed allora il regno degli Ungari si integrò quindi nell'Europa cristiana la seconda popolazione che ci interessa molto sono i normanni allora i normanni sono un popolo di origine germanica che inizia già dall'VIII secolo a muoversi in Europa dalle regioni scandinave cosa sono le regioni scandinave quelle del nord Europa ok Danimarca Svezia Finlandia e così via e dal nord si muovono verso sud questi nuovi invasori vengono chiamati normanni come vi ho detto cioè uomini del nord oppure vichinghi vichinghi è una parola germanica che è vic che vuol dire esattamente che vuol dire baglia ok oltre alla razzia come gli altri popoli germanici e alla pirateria i normanni praticavano la pesca erano degli ottimi pescatori e il commercio famose sono le navi costruite dai normanni che erano molto veloci e solide quindi molto adatte sia per la guerra che per il commercio munite di vele e di remi e che venivano chiamate draccar perché draccar perché portavano scolpite sulla prua o sulla poppa immagini di draghi o mostri che anche dovevano un po' spaventare i nemici ok quindi i normanni non solo raggiungono molte regioni dell'Europa occidentale e orientale ma da esperti navigatori quali erano affrontarono l'oceano aperto ok si spinsero quindi verso l'oceano atlantico addirittura colonizzarono quindi l'islanda e toccarono le coste della groenlandia ok e addirittura ragazzi si spingono fino alle coste settentrionali del continente americano quindi qui avete una cosa importantissima da capire cioè a scuola ci raccontano che il primo ad aver messo piede in America è Cristoforo Colombo nel 1492 quindi siamo centinaia di anni prima di Cristoforo Colombo e già degli uomini che sono appunto i normanni hanno messo piede in America settentrionale ok nella zona del Labrador e del Tarronova ma i normanni non sono importanti solo per questo ma sono fondamentali perché dalle coste della Norvegia e della Danimarca nel corso del IX secolo colonizzarono come abbiamo detto l'Islanda ma penetrarono anche in Irlanda e in Inghilterra e arrivando fino alla Francia e infatti danno il nome a una regione francese importantissima che sta nella zona dello stretto della Manica che si chiama Normandia ok proprio dalla Normandia partì la spedizione militare guidata da un personaggio famosissimo per gli inglesi che è Guglielmo il Conquistatore che nel 1066 con la famosissima battaglia di Hastings portò i normanni a sconfiggere gli anglosassoni e a conquistare l'Inghilterra bene quindi i normanni diciamo che sono il popolo di queste invasioni che è un po' più ricco dal punto di vista storico che vi dovete ricordare bene perché hanno un ruolo nel creare l'Europa che vediamo oggi quindi come vi ho detto la Normandia in Francia e l'Inghilterra nelle isole britanniche il terzo popolo importante è quello dei Saraceni come abbiamo visto nelle edizioni precedenti già all'inizio dell'ottavo secolo tutta l'Africa settentrionale e gran parte della Spagna erano in mano agli arabi all'impero arabo che aveva cominciato a svilupparsi tra l'827 e il 901 gli arabi conquistano la Sicilia che apparteneva a quel tempo ai bizantini voi sapete molto bene chi sono i bizantini sono bizantino con il termine bizantino ci si riferisce alla parte orientale dell'impero romano che vi ricordate l'impero romano diviso in due occidente e oriente la storia bizantina è la storia dell'impero romano d'oriente quindi dall'Africa settentrionale e dalle loro basi nel tirreno gruppi di pirati arabi assaltavano le navi e raziavano le città costiere dei paesi cristiani nel Mediterraneo quindi vi dovete ricordare le scorrerie dei Saraceni che è l'altro nome degli arabi nel Mediterraneo in particolare i Saraceni sono i pirati arabi ok e rappresentarono per oltre un secolo una minaccia costante per tutta l'area del Mediterraneo ok la lezione finisce qui vi ho messo il link a un video esplicativo molto chiaro se doveste avere ancora dei dubbi della Zanichelli che vi fa appunto un riassunto di quello che ho detto soprattutto delle invasioni la presentazione powerpoint di questa lezione sarà disponibile sempre sul sito in cui avete trovato questa e quindi è disponibile per essere scaricata vi saluto al prossimo video grazie grazie